buongiorno amici e bentornati sul canale oggi siamo a cascina per il consueto mercatino dell'antiquariato vi porto con me a caccia di orologi buongiorno amici 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 niente di 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 niente che ora effettivamente mancano le batterie con la possibilità di mettere la sveglia che suona o con un allarme normale oppure con la voce di 90 mi ricordo che era molto in voga negli anni 90 ho visto che nel mercato delle scattoli vinto ha già anche un discreto valore quindi molto molto carina pagata una stupidaggine poi abbiamo preso questo come vedete in questo certina di s4 quarts come potete vedere è una roccia degli anni 80 al quarzo ma un quarzo svizzero età con tanto di bracciale originale rogato certina di s fondello con la tartaruga certina di s molto carino questo permette lo venderò ora vediamo intanto lo sistemiamo comunque funziona perfettamente ha cambiato la batteria quindi niente questa è la caccia di oggi poteva andare molto peggio ciao a tutti